Si propone di avere un valore maggiormente operativo, di realizzare relazioni più incisive e di efficientare l'uso delle risorse, superando il protagonismo delle singole persone rispetto a quelle sottoscritte dal 1991 ad oggi, la Convenzione tra l'Università di Perugia e Confindustria dell'Umbria, firmata stamani a Palazzo Morena dal Rettore dell'Ateneo Franco Moriconi e dal Presidente degli Industriali Umbri, Ernesto Cesaretti. L'intesa prevede all'insegna della pragmaticità la collaborazione in vari ambiti come ricerca, trasferimento tecnologico, supporto all'innovazione, didattica, orientamento in ingresso e in uscita, job placement, politiche industriali, spin-off, start-up, formazione, aggiornamento e proprietà intellettuale. Una cabina di regia costituita da tre rappresentanti dell'Ateneo ed altrettanti dell'Associazione Industriali avrà il compito di individuare i temi prioritari sui quali sviluppare la collaborazione. Sui singoli temi saranno i gruppi di lavoro specifici a focalizzare le modalità operative in base alle quali attuare l'intesa. Questo accordo è importantissimo perché vede il nuovo corso di questo rettorato, stringere un accordo con la Confindustria che come abbiamo detto precedentemente è un accordo a tutto tondo per tutta l'Umbria, non solamente fatto con la Confindustria di Perugia o la Confindustria di Terni ma coinvolge tutti. È un rapporto che io ho sempre desiderato che l'Università avesse con l'industria del territorio per lavorare in collaborazione e per crescere sia noi che l'industria stessa. L'accordo è importante perché collega l'industria al sapere. È ovvio che abbiamo definito un nuovo percorso, che questo è importante, con dei step da fare per controllare l'evoluzione dei lavori in modo da far sì che la praticità si trasformi in una realtà.